I signori dell'ordine davano la terra per spacciare. Solo la malvagità di Bremia che avrebbe ristabilito l'ordine. Sapevo che opponendomi ai signori li avrei irritati, che avrebbero tentato di distruggerli. Chiunque altro avrebbe desistito. Per mia fortuna, ho ancora degli amici nei bassifondi. La casa del mistero protegge l'emmo. Gli incantesimi di Zatanna e Constantine mi nascondono ai signori. Ma è dalla figlia di John, Rose, che ho ricevuto il dono più prezioso. Mia moglie Inza è tornata in vita e posso riabbracciarla. Per la prima volta da quando posseggo l'elmo, ignoro cosa porterà il domani. Ed è magnifico.